Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi di crash nella nuova stagione 3 di Fortnite è il capitolo 5 quindi in questo caso se stai riscontrando problemi di crash durante la partita oppure quando avvii Fortnite metti avvi e crash il gioco oppure quando stai nel Battle Royale stai sparando a qualcuno e crash perché stai laggando, frame laggando e stai anche avendo problemi di schermo quindi in questo caso è possibile risolvere il problema al crash andando direttamente su esegui andiamo direttamente a scrivere qua sopra esegui vai qui vai a scrivere per cento app data per cento vai su app data local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite game save config crash report client ed eccolo qua crash report client cancelliamo così il crash report client torniamo indietro su Windows client ed eccoli qua tutti i file di configurazione su Fortnite cancelliamo tutti queste impostazioni di configurazione votiamo anche il cestino e facciamo sì una volta fatto chiudiamo un attimo qua andiamo direttamente su Epic Games andiamo nella libreria andiamo sui tre puntini di Fortnite quindi andiamo su Fortnite questo qua tre puntini gestisci opzioni di lancio scrivi trattino di 3d 11 per aprirlo come DirectX 11 modalità di rendering andiamo sempre sui tre puntini vai su opzioni texture ad alta risoluzione togli la spunta da qua shader DirectX 12 se non supporti questo DirectX 12 e stai allargando togli la spunta da qua e farai anche più FPS senza avere problemi di crash e fai applica una volta fatto vai sui tre puntini di nuovo gestisci e facciamo la verifica ai file del gioco una volta fatto così la verifica al gioco entriamo direttamente su Fortnite ma prima di avviare il nostro gioco andiamo direttamente nella sua cartella quindi vai su gestisci installazione e vale la sua cartella andiamo su Fortnite game binari su 64 scendiamo fino a giù fino a trovare le quattro applicazioni di Fortnite client tasto destro sopra mostra attropazione proprietà compatibilità disabilità ottimizzazione schermo intero eseguiamo questo programma come amministratore lo fai la stessa cosa con tutte e quattro le applicazioni soprattutto con il Fortnite client 1 in 64 shipping che è quello più importante proprietà compatibilità esegue questo programma come amministratore modifica le impostazioni per tutti gli utenti modifiche impostazioni dpi sistema avanzato dpi programma e facciamo ok e chiudiamo qua una volta fatto per i problemi di crash è possibile aggiornare i driver sul nostro sistema in descrizione ti ho lasciato il pacchetto che ti porterà sulla pagina per scaricare il pacchetto proprio di tutti i driver che servono per Fortnite e il nostro sistema operativo come puoi vedere questi sono i driver che ho scaricato quindi è un pacchetto raro di 200 megabyte estrago così il pacchetto raro e comincio a installare tutti i driver per Fortnite ok il pacchetto si trova in descrizione se hai problemi con il link puoi sempre entrare nel mio server Discord una volta fatto quello che ci resta da fare è avviare Fortnite se sta avviando senza nessun problema neanche se stai avviando il gioco c'è scritto connessione in corso e poi crash il gioco così senza così dal nulla crash il gioco così senza che esce neanche un errore niente facciamo rifiuto ok una volta fatto andiamo direttamente sulle nostre impostazioni se non hai problemi di fps tipo fai più di 100 fps su Fortnite e stai andando benissimo attiva il v-sync per non avere problemi di crash attiva il v-sync finestro finestra metti direttamente schermo intero risoluzione scegli la tua risoluzione l'imite e frame rate ovviamente si è attivo il v-sync non farà FPS e le limitati quindi se tu fai più di 160 fps su for 30 70 ti consiglio di mantenerlo su 160 fps una volta fatto scendiamo fino a giù modalità di rendering nell'avvio il trattino di 3d 11 modalità di rendering direct x11 al posto di prestazioni quella graficamente direct x11 prendiamo fino a giù il motion blu lo togliamo andiamo fino a giù preimpostazione di qualità mettiamo medio tsr epico mettilo su basso hai fatto mostra fps facciamo sì di cadere la denza facciamo sì sì on più se fai applica mandini le modifiche e devi riavviare anche il gioco per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cerco realizzare altre guida a riguardo in alto a destra nella playlist c'è ci sono veramente tantissimi tutorial che ho fatto su fortrens come risolvere tantissimi problemi iscriviti la celai che noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao